È un anno e mezzo che aspettavo questo momento e finalmente è arrivato e quindi sono contento e spero di adattarmi il prima possibile. È stata una carriera scalino per scalino la mia, sono partito dalla Serie B e piano piano sono salito e adesso che sono arrivato qui spero di dare il mio contributo alla squadra e di aiutare i miei compagni quando il mister mi chiamerà in causa e spero di farlo il prima possibile. Per un difensore fare gol è un qualcosa in più, diciamo che mi ero abituato bene perché io fin quando ero nei giovanili così non segnavo quasi mai e quindi è stata una cosa un po' inaspettata per me. Più gusto quando marco l'uomo perché essendo un difensore è quello che mi piace di più fare. Credo che il 13 mi abbia un po' caratterizzato un po' tutta la mia carriera, l'ho preso perché il mio ideolo era nesta, aveva il 13, quindi sono felice che non aveva nessuno qui alla Juve e sono riuscito a prendere ancora questo numero. Qui alla Juve c'è molto lavoro e si parla poco, quindi so che devo lavorare molto e davvero non vedo l'ora di farlo. Sono felice che Cristiano sia il mio compagno di squadra, sono molto emozionato e curioso di vedere come si allena e come cura anche gli aspetti fuori dal campo perché credo che sia per arrivare a certi livelli e rimanere al top per così tanti anni credo che abbia una mentalità incredibile e quindi sono curioso di vedere quello e anche ovviamente di vederlo in allenamento per capire quanto sia forte fino alla fine Forza Juventus.